Musica Siamo usciti a fare quello che uno pensava fino a qualche anno fa, a fare un museo solo di Scutti e di Lambregna. E' quella dietro? E' quella dietro. Grazie a tutti. Volevo che la signora Torre, la figlia dell'ingegnera Torre, quell'inventore della Lambretta, che vogliono fare queste parole, che è tutto nato al suo papà. Sono felice di essere vicino a Vittorio, che è bellissimo e ha finito viva la memoria dell'innocente della Lambretta e di mio papà. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.